Buonasera e buon anno, torniamo ad occuparci di politica, di politica estera e di economia. Lo facciamo oggi con l'onorevole Mauro del Barba, a cui do un caloroso bentornato. Grazie, buonasera a lei, buonasera ai telespettatori e buon anno a tutti noi che ne abbiamo bisogno. Buon 2022 anche a lei, spero si è iniziato bene. Noi non ci vediamo da tanto tempo, per cui si prepara e le dovrò fare tante domande. Metto le cuffie. Parleremo di politica e di politica estera, vista la sua competenza ma anche passione, vorrei partire proprio da qui, da quello che sta accadendo tra le grandi potenze del mondo. Trump è tornato ad accusare, ad attaccare Biden e la Russia che stando ad alcuni pensatori si preparerebbe ad attaccare l'Ucraina e poi la Cina, ma non solo. Sì, è davvero un grande rimescolamento, potenzialmente molto pericoloso, quello che sta accadendo dopo la fine di un'era che era quella in cui sostanzialmente gli Stati Uniti facevano i poliziotti del mondo. da quando è caduta la cortina di ferro, questo equilibrio per un pochino ha visto spostare l'asse del potere tutto sugli Stati Uniti e poi dal 2001 con l'11 settembre in avanti questa storia è cambiata, ma era destinata a cambiare per quello che è lo sviluppo globale che il pianeta sta assumendo e che porta potere in parti del mondo che prima ne avevano di meno. Però facciamo ordine e parliamone con calma. Magari su questo, anziché partire da queste grandi potenze, parto da uno Stato che mi sta molto a cuore che è il Kazakistan, perché stiamo vedendo in questi giorni qualche cosa di totalmente inaccettabile, manifestazioni di piazza sedate nel sangue. Io sono stato in Kazakistan, a suo tempo ho incontrato i dissidenti. Oggi lo posso dire, questo mi è valso anche una tirata d'orecchie da parte dei parlamentari kazaki, qualche messaggio. Bisogna avere coraggio quando si fa politica. Io ho visto con anche un po' di divertimento smorzato un pochino dalla delusione tanti occuparsi di politica estera quando è stato il turno dell'Arabia Saudita, persone che neanche sapevano, politici, che neanche sapevano dove era sulla cartina. In realtà quando ci si occupa dei diritti umani bisogna farlo sempre. Ci sono molte democrazie in questo momento nel nostro emisfero che in realtà non sono delle vere e proprie democrazie. Lo potrebbero diventare, vanno aiutate a diventarlo progressivamente. Per questo io partecipo come osservatore elettorale laddove ci sono queste elezioni. È molto chiaro quando partecipiamo quali sono i gap da colmare per essere più democratici. È molto chiaro, l'abbiamo imparato, che questi gap non si esportano più con le guerre. Non funziona nel Medio Oriente, non ha funzionato in Europa, non ha funzionato nelle ex repubbliche sovietiche. E quindi qual è il punto? Il punto è che bisogna tornare a far prevalere la politica. In questo momento il mondo è una grandissima stanza d'affari, perché la globalizzazione consente, e questa è una cosa positiva, non lo dico in modo critico, consente di avere delle relazioni con tutti gli stati attraverso gli scambi commerciali, attraverso gli interessi economici. A questo però si deve aggiungere la politica. Bisogna tornare a far prevalere o comunque a dare un primato alla politica, che vuol dire poter alzare la voce anche con gli amici quando è necessario, chiedere il rispetto dei diritti umani, che è la base di partenza perché le democrazie possano crescere. Relativamente ai nuovi equilibri geopolitici, bisogna riconoscere gli interlocutori, ma non avere timori reverenziali. Mi riferisco alla Cina, con cui molto spesso forze politiche italiane sono state abbastanza subalterne. mi riferisco alla Turchia, che conserva le storiche mire espansionistiche, rispetto alle quali solo con l'arrivo di Draghi l'Italia ha fatto chiarezza. Ricorderemo tutti che Draghi in una delle sue prime interviste definì dittatore il presidente turco. Il ritorno della politica in Italia è una buona notizia. Nel resto del mondo la politica zoppica, le democrazie soffrono. Gli Stati Uniti sono ancora un paese diviso a metà. Noi ricordiamo, si è celebrato l'anniversario di Capitol Hill, un vero e proprio attentato alla democrazia americana. Lo ricordiamo come un evento passato. In realtà, chi vive in America ci testimonia quotidianamente di come quella società sia rimasta cristallizzata sulle due posizioni, Trump-Biden. E Biden è tuttora un candidato molto forte, molto credibile, convinto di ritornare alla presidenza alle prossime elezioni. Tant'è che quest'anno ci saranno le elezioni di mid-term e saranno importantissime per misurare questo trend. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che in questo nuovo riposizionamento dei poteri mondiali i cittadini, anche delle democrazie più evolute, sono disorientati. Se a questo ci aggiungiamo l'esito della crisi economica e la pandemia, ecco che siamo nella tempesta perfetta. E ancora una volta, l'unica soluzione è la buona politica. Non ci sono scorciatoie. Il vero pericolo che noi abbiamo sempre denunciato è il contrario della buona politica, cioè il populismo, che è alimentato dall'antipolitica. Può sembrare così una cosa semplice, ma è la linea essenziale da seguire. E poi caso per caso, ovviamente, e quello dell'Ucraina che lei citava, è un caso che ci preoccupa tantissimo, perché in questo momento abbiamo da una parte un'Europa che dal punto di vista militare non è certo nelle condizioni di innescare un conflitto con l'Unione, con la Russia, che sarebbe disastroso. È chiaro che i pericoli, le possibilità che partano dei conflitti come noi li conosciamo, oggi sono ridotti ai minimi termini. Tuttavia, proprio in questa situazione, ci sono alcuni stati, Russia e Turchia, quello che la Turchia ha fatto e sta facendo in Siria, è abbastanza vergognoso, che approfittano delle nostre debolezze, debolezze democratiche come quelle che ho appena ricordato, che si riflettono, ovviamente, in debolezze militari, delle democrazie deboli, che fanno fatica ad avere un rapporto forte ed equilibrato con la propria base elettorale, con i cittadini, non possono certo pensare di risolvere i problemi a maggior ragione attraverso gli eserciti. E questo fa sì che c'è chi ne voglia approfittare, che veda questo come una debolezza e ancora una volta è la politica che deve intervenire. La politica estera in Italia è stata un pochino messa in sordina da molti anni, ci sono pochi politici che la conoscono, io mi occupo di bilancio, di economia, ho una passione per i diritti civili, riesco a intuire l'importanza della politica estera e devo dire che siamo in pochi che seguiamo la politica estera capendone i riflessi quotidiani sulla vita dei nostri cittadini. Ecco, proprio qui volevo arrivare. Quanto è ricattabile l'Italia in tutto questo? Dove potrà incidere? Sappiamo che gli interessi sono enormi, sono legati prevalentemente all'energia, ma... Eh, ha usato una parola forte, ma probabilmente appropriata, ricattabili. L'energia è uno degli elementi fondamentali, ovviamente per le dispute e i conflitti e la possibilità di giocare un ruolo con più o meno forza nell'ambito degli equilibri nazionali. Penso a una cosa, nella scorsa legislatura noi abbiamo dovuto sopportare insulti, attacchi perché stavamo completando il TAP, perché stavamo portando un ulteriore gasdotto per essere meno ricattabili, in questo caso dall'Azerbaijan. La miopia del dibattito pubblico sulla politica ha portato gran parte degli italiani a non riconoscere i propri interessi e questo è quello che fa la cattiva politica e il populismo. Il referendum sulle trivelle non ha raggiunto il quorum e quindi solo per quel motivo oggi non abbiamo impedito, chiuso, tutte le trivellazioni già in essere sul territorio italiano. Io mi occupo di sostenibilità, penso e progetto un mondo che faccia meno degli idrocarburi, dei combustibili fossili, ma è veramente assurdo mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi e dire no, nel mar Adriatico noi non trivelliamo quello che sostenevano chi portava avanti il sì in quel referendum, non trivellano i paesi che stanno nella costa opposta, quindi vengono con una cannuccia a prendere le risorse. Poi non è che noi siamo un paese virtuoso e quindi andiamo avanti pedalando, no, compriamo quel gas o dipendiamo, come in questo caso, dalla Russia, perché quel gas noi lo compriamo lo stesso, le case le scaldiamo lo stesso con il gas, ma per qualche motivo, che io credo semplicemente sia essere ottusi, noi adottiamo queste politiche e quindi la schizofrenia politica del nostro paese rischia davvero di penalizzarci. E ripeto, io non sono né pro gas, né pro carbone, né pro petrolio, ma nel momento in cui stabilisco che userò 100 di gas, farmi dipendere da questi 100, da uno Stato che ammira espansionistiche, beh, questo mi sembra un po' stupido. Onorevole, veniamo a quello che sta invece avvenendo in Italia. Siamo in attesa delle riforme, siamo in attesa delle novità sul fisco, il CSM, le pensioni, le concessioni, ma in realtà tutto questo è messo da parte perché stiamo vivendo questa corsa al Quirinale e quindi la successione a Mattarella che veramente sta paralizzando quasi l'attività di governo. Le due cose sono strettamente correlate, quindi la corsa al Colle implica anche la corsa al governo e quindi abbiamo sentito in questi giorni ai Draghi annunciare di aver completato il suo lavoro. Insomma, per qualcuno è sembrata quasi una candidatura per il Colle, oltre che una fuga dal governo. Lei come sta vivendo tutto questo? Ci spieghi che cosa sta accadendo a Roma? È sicuramente come lei dice, la Presidenza della Repubblica è una questione importante in sé. mettere un uomo che sia in grado di rappresentare tutti, che sia una persona solida, che nei momenti di crisi sappia intervenire, nei momenti in cui non è necessario sappia farsi da parte, è sempre una questione fondamentale. E io sono onorato di aver votato Napolitano e Mattarella, due galantuomini che hanno fatto la loro parte. Quindi questa è una cosa importante di per sé. E' sempre convinto di aver sostenuto Draghi? Ah, beh, se mi fa questa domanda, è una delle soddisfazioni politiche più grandi della mia vita. Io ai miei nipoti racconterò che quando questo paese stava rischiando di andare gamba in l'aria, quando ci ricoprivano di insulti alla sola idea che si potesse mettere in discussione il governo Conte che comprava i banchi a rotelle per le scuole, noi abbiamo tenuto duro e abbiamo saputo vedere la strada che portava a un governo più forte, più autorevole, che ci portava fuori dalle secche. Guardi, questa è una medaglia che non mi interessa che ci appendano gli altri al petto, ce l'appenderemo sempre, per tutta la vita, da soli. Avevamo parlato proprio di questo l'ultima volta che ci siamo visti, ma veniamo appunto al Colle. Chi è candidabile, onestamente parlando, oggi? Allora, innanzitutto sono candidabili solo le persone che hanno un profilo degno di essere candidabili. Però vorrei tornare sul ragionamento a cui lei mi aveva invitato. Il Colle è una questione fondamentale sempre. Questa volta il Colle è una questione fondamentale perché da lì discendono gli equilibri politici del governo in un anno delicatissimo. Quindi la partita è una partita doppia. Quindi se togliamo Draghi dal governo e lo mettiamo al Colle? Se togliamo Draghi dal governo e lo mettiamo al Colle, cosa che sarebbe sicuramente una scelta che mette una persona autorevolissima al Colle, lo possiamo fare se e solo se la politica con grande senso di responsabilità individua una soluzione che garantisca governabilità a questo Paese in una fase così delicata. E questo dipende dalla capacità politica di tutti. Noi da soli bastammo per mandare a casa Conte e portare Draghi perché ci fu coraggio e visione politica. Per fare un accordo di questo tipo, per mandare Draghi al Colle, serve che tutti facciano un passo avanti. Lo stanno facendo? Io dico di no. È abbastanza evidente che Conte, Letta, e forse di meno Salvini ultimamente, paradossalmente. Vogliono le elezioni. Devo dire, io che sono un critico di Salvini da sempre, che in questa fase, tra questi tre leader, quello che in maniera più ferma ha capito che forse è il caso di tenere Draghi al Colle, o comunque tenere Draghi a Palazzo Chigi, o comunque non parlare di Draghi al Colle se non dopo aver messo in salvaguardia la legislatura e il governo. È lui. Lo dico con grande onestà intellettuale. Non apprezzo nulla delle politiche di Salvini. Nulla. Ma in questo caso serve che i leader politici facciano un passo avanti di serietà e fermezza. Dove dicano quello che pensano. Salvini sta dicendo equilibrio in questo momento e quindi continuiamo su questa linea. Esatto, sì. Lui sta dicendo teniamo Draghi a Palazzo Chigi, che comunque è un modo per indicare il fatto che principalmente bisogna blindare la legislatura. Perché in questo momento, se l'Italia andasse al voto, dopo aver guadagnato la credibilità internazionale che ha guadagnato, con il PNR che sta partendo, con una pandemia da gestire, tutti dall'estero ci direbbero che siamo dei matti. Non significa che non si può votare, perché ci sono fior di stati che votano, ma bisogna considerare come l'Italia è considerata in Europa, quali sono i passaggi che ha fatto negli ultimi anni. tutti sono rimasti incantati dalla nostra capacità di portare al governo persone autorevoli in un momento in cui nessuno l'avrebbe mai detto, dopo l'esito del 2018, con le forze populiste che hanno preso la maggioranza. E poi dicono, ah, i soliti italiani, i soliti italiani inaffidabili che non sanno neanche riconoscere il loro bene. Questo sarebbe il problema molto grosso, oltre che ci sono delle partite sul tavolo che non possono permettersi tre mesi di stop e con l'incertezza poi di quello che sarebbe l'esito elettorale in questa fase. Tutto questo farebbe pensare di essere in un paese democratico. In realtà le scelte che sono state adottate, soprattutto le ultime scelte, sono state impugnate come scelte anticostituzionali e quindi antidemocratiche. Ci spiega dove sta la verità? Siamo sotto dittatura oppure, come dice lei, siamo veramente in un momento storico straordinario come non accadeva da almeno 30 anni? Sicuramente siamo in un momento storico straordinario, ma non perché c'è una dittatura, perché stanno capitando delle cose che mettono a dura prova la democrazia. Prima voglio dire una cosa che in qualche modo va a difesa, diciamo così, dei no-vax loro malgrado, delle persone che hanno paura e che si trovano in mezzo a questo dibattito. Sono stati fatti, da quando è iniziata la pandemia ad oggi, sia in Italia che a livello mondiale, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e degli altri governi, numerosi errori di comunicazione, che quindi legittimamente portano alcune fette della popolazione ad essere confuse e impaurite. Detto questo, tutto quello che sostengono i professoroni dei no-vax, questi filosofi che in età senile hanno bisogno delle luci della ribalta, sono delle sciocchezze dal punto di vista costituzionale. E siamo da sempre, siamo abituati, che per fare alcune professioni è sempre stato necessario vaccinarsi o prendere delle misure di profilassi particolari per fare quelle professioni. Capiscono tutti i cittadini che nel momento in cui i vaccini fossero e sono l'unica soluzione che noi abbiamo per statisticamente non finire in ospedale, non saturare le corsie, non finire in terapia intensiva, è legittimo, non solo legittimo, ma è doveroso da parte dello Stato e delle istituzioni chiedere ai cittadini di vaccinarsi. Si può mettere l'obbligo vaccinale in alcune circostanze come quella a cui siamo arrivati ora, io ho sempre detto, si deve mettere l'obbligo vaccinale, quindi per alcune professioni, per alcune fasce a rischio e non escluso in maniera universale. Chiariamo, l'obbligo vaccinale non è un trattamento sanitario obbligatorio, è semplicemente una disposizione di legge che dice cari signori, la situazione è tale per cui da qua in avanti devi avere il vaccino, altrimenti non puoi fare determinate cose, che non è una questione così strana, perché in questo momento e le cose possono cambiare, possono cambiare in meglio o in peggio e non lo sanno neanche gli scienziati. A questo forse non siamo più abituati, noi siamo così abituati dalla narrazione che i prodigi della tecnica renderanno inesorabilmente la nostra vita migliore e sempre più felice. Certo che la tecnica, la scienza, le tecnologie ci aiutano, ma non siamo onnipotenti. Forse l'umanità, ecco l'umanità soprattutto quella occidentale o pulenta, si sta risvegliando con questa nuova coscienza. Non siamo onnipotenti, guarda un po'. C'è una minaccia, da dovunque arrivi la scienza, i numeri, l'oggettività, il quotidiano, andiamo in un ospedale a vedere cosa succede, ci dice che se non vogliamo mettere in ginocchio la sanità pubblica ci dobbiamo vaccinare. Non è solo, non è più e solo un problema, ti devi proteggere, cioè devi mettere la cintura di sicurezza quando vai in macchina per il tuo bene e ti obbligo. Perché da questo punto di vista fino a un certo punto potrebbe ancora reggere l'obiezione no, sul mio corpo tu non mi obblighi, ma a questo punto diventa una questione di responsabilità verso gli altri. Siccome voi, se non vi vaccinate andate più facilmente in ospedale, andate più facilmente in terapia intensiva, già adesso togliete dei posti a chi deve curare le malattie ordinarie. Non si parla abbastanza di quante cure e interventi sono sospesi nella sanità chiamiamola ordinaria, non covid, a seguito del fatto che gli ospedali vivono questo assalto. ma in un domani le sembrerà giusto che non potremo curare dei malati di covid che si sono vaccinati perché il 97% delle terapie intensive è occupato dai malati di covid. Cioè, questi sono discorsi a cui non vorremmo mai arrivare perché questi sarebbero davvero i discorsi eticamente provanti, non le sciocchezze che dicono i filosofi che in età senile vogliono la ribalta sull'anticostituzionalità o sull'etica. Non ci siamo. Parliamo del caso Djokovic. Ma, io, innanzitutto, lì ci sono questioni di business. Al netto di tutto questo ci sono questioni simboliche e politiche che per me sono più importanti. Non è tollerabile che, in virtù del fatto di essere un campione come è Djokovic, possano essere fatte delle eccezioni nella gestione del virus e delle regole. Possono essere fatte e vengono fatte delle eccezioni per il bene pubblico. Ci sono tantissime eccezioni per cui se uno deve svolgere un compito allora può derogare delle regole quando questo compito è per il bene pubblico. Io non mi sentirei di dire che in questo caso mettere in scena Djokovic Djokovic agli Open d'Australia sia un bene pubblico che consenta di sacrificare un principio come quello che diceva prima anzi sarebbe l'esatto contrario perché Djokovic si è giocato male le sue carte. Penso che sia un altro caso di cattivo maestro e bisogna dirlo con chiarezza. Da anni lei si occupa di economia e quindi di bilanci è in commissione bilancio e negli ultimi mesi la commissione bilancio è stata impegnata a lungo nella stesura del piano di attuazione del PNRR questo piano prevede tra i tanti punti anche un sostanzioso impegno per il settore del turismo. Del PNRR dovremmo parlare per cinque anni ed è bene che pian piano diventi un oggetto conosciuto. Il piano in sé è stato approvato grazie al fatto che Draghi ha potuto scriverlo perché prima c'era solo Fuffa perché le cose vanno dette per come sono è stato approvato nell'estate di quest'anno e questo ci garantisce i famosi 200 erotti miliardi tra React EU e il Recovery Fund. Quello che abbiamo fatto nel mese di dicembre è quello che continueremo a fare. È stato fatto da parte del governo un decreto per l'attuazione del PNRR che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo consegnato l'Europa una serie di obiettivi e di voci di spesa cioè come spenderemo questi soldi e ce l'hanno approvato ci hanno detto bravi ma da quel momento è partito un timer e noi dobbiamo raggiungere ogni mese dei target delle milestone se li raggiungiamo allora l'Europa ci darà questi soldi se non li raggiungiamo l'Europa non ci darà i soldi per raggiungerli come avviene a casa come avviene nelle imprese abbiamo detto vogliamo questi obiettivi ma poi se uno degli obiettivi ad esempio è la riforma della giustizia poi la devi fare devi fare un decreto se uno degli obiettivi era il rilancio del settore turismo poi devi fare un decreto che dice bene adesso come spendo questi soldi ed è proprio il turismo sono stati i primi tre articoli di questo decreto di dicembre è andato a precisare una serie di interventi sul settore turismo molti anche di carattere ancora di ristoro ristoro nel senso della ristorazione soldi a fondi perduti per chi ha avuto cali di fatturato ma anche interventi che vanno nella direzione di emulare il super bonus diciamo così con delle con altre modalità nel settore turistico tutto questo però viene arriva a terra quando poi il ministro fa i decreti attuativi oppure quando si fanno i bandi di gara e così via nel corso del 2022 del 2023 il Parlamento dovrà fare delle nuove leggi per precisare meglio dove vanno i soldi come distribuirli come distribuirli sulla base appunto servono delle leggi i ministeri dovranno fare dei decreti e per la parte di soldi che verranno dati alle regioni tante e ai comuni appunto noi faremo le leggi che dice bene adesso tu regione questa quota parte la metterai in questi settori la regione a sua volta dovrà fare delle leggi o dei bandi quando non serviranno delle leggi regionali per allocare la spesa e far partecipare laddove questo è previsto o i privati o le amministrazioni territoriali quindi c'è un lavoro legislativo e amministrativo continuo che deve essere fatto ora per portare a terra il PNRR questo spiega forse meglio il motivo per cui diciamo guardate che sì eleggiamo il Presidente della Repubblica deve essere persona degna e ci mancherebbe che non sia così ma deve essere un passaggio che garantisca la governabilità di qui al 2023 perché altrimenti si interrompe questa macchina delicatissima forse ai più non è chiaro per quanto riguarda sia il turismo che i tantissimi interventi c'è chi mi chiede mi telefona ah ma l'agrisolare quindi il solare nell'agricoltura sono tutte cose che sono scritte nel PNRR come obiettivi e come titoli e che devono vedere e vedranno continuamente da parte nostra a tambur battente degli interventi legislativi amministrativi ed è questa enorme macchina burocratica e verrà gestita con delle task force in questo momento si stanno facendo i bandi per assumere le persone delle task force ai vari livelli che gestiranno pezzi di questa macchina quindi è una complessità importante è importante che il Parlamento la segua è importante che sui territori si organizzino momenti conoscitivi per gli amministratori pubblici e per i privati è riuscito anche a rileggere a spulciare anche la legge di bilancio o il piano di attuazione del PNR ha catalizzato totalmente la sua attenzione anche qui abbiamo come Parlamento perché sta avvenendo qualcosa che ai cittadini può interessare relativamente ma che sulla lunga è invece importante per definire il funzionamento della democrazia mentre noi lavoravamo sul PNRR dall'altra parte il Senato faceva la legge di bilancio e uno dice ma come non c'è bicameralismo paritario certo poi ce lo siamo scambiati a Natale ma era già fatto non c'era la possibilità concreta di modificare qualcosa se no doveva tornare dall'altra parte quasi manco di leggerlo per i tempi a cui ci siamo costretti vicendevolmente ma ne avete discusso perlomeno prima? ma come dire all'interno della nostra forza politica sicuramente sì e probabilmente i partiti avranno fatto lo stesso ma i momenti di discussione quelli democraticamente previsti alla Camera nelle commissioni sono veramente molto contratti dall'emergenza perché c'è tanto lavoro da fare e perché molto di questo lavoro deve necessariamente lo capisco arrivare dal governo perché deve essere un lavoro non solo di principio come spesso il Parlamento opera ma molto operativo molto legato al bisogno letto sul territorio interpretazione tecnica del bisogno attraverso le tecnostrutture dei ministeri soluzione molto tecnica che arriva sul tavolo tutto questo sta svuotando i Parlamenti non solo quello italiano di funzioni questo è un pericolo per la democrazia lo si accetta in questa fase perché tutti dobbiamo accettare dei compromessi lo fanno i lavoratori lo fanno i lavoratori della scuola e lo devono fare hanno tutta la mia comprensione per le difficoltà ma a maggior ragione devono tenere duro e lo devono fare le istituzioni sarà il vostro compito quello di di vigilare di ritornare invece ad un bicameralismo e ad un confronto reale sì sarà il nostro compito consideri che abbiamo votato il taglio dei parlamentari a furor di popolo il taglio dei parlamentari di per sé non è qualche cosa di negativo tant'è che noi abbiamo tenuto una posizione neutra su questa vicenda ma il taglio dei parlamentari mantenendo due camere e quindi guardiamo il senato andando a soli 200 senatori in un sistema che richiede il voto sia da una parte che dall'altra sullo stesso testo rischia di essere un problema per la democrazia andrebbe accompagnato da una riforma del senato perché perché un senatore nella commissione bilancio può tenere in ostaggio il paese nella prossima legislatura insomma questo aspetto mi preoccupa come mi preoccupa il fatto che numeri troppo bassi per un paese che ha problemi complessi come il nostro non so quanto consentiranno analisi approfondite da parte dei parlamentari saranno tutte questioni che si vedranno nella prossima legislatura a me sarebbe piaciuto e piacerebbe poter completare queste riforme con una riforma del bicameralismo come quella che noi realizziamo allora o qualche cosa di simile che vada un po' bene a tutti io vedo una grandissima inefficienza nel sistema attuale che concorre allo svuotamento pericoloso della rappresentatività dei parlamenti onorevole vi è qualche cosa che non riusciamo a spiegarci che sta avvenendo nell'ambito del lavoro abbiamo finalmente risolto il problema della disoccupazione oppure cos'altro perché questi territori ma non solo quelli italiani in cui noi ci troviamo sulle montagne i vicini grigioni in questo momento sono piegati non solo dalla pandemia ma anche dalla carenza di personale che è introvabile che cosa sta accadendo? Sì purtroppo questo fenomeno che mi è molto chiaro me lo raccontano un pochino tutti gli operatori soprattutto del turismo o comunque laddove servano dei lavoratori qualificati ma che siano di mano d'opera questo fenomeno purtroppo non si accompagna con dei dati sulla disoccupazione che portano a una disoccupazione quasi zero questo fenomeno si accompagna con la crescente incapacità del nostro sistema formativo di preparare delle persone quindi una offerta di lavoro che match con la domanda oltretutto penso che dal punto di vista numerico non è così significativo ma dal punto di vista simbolico e psicologico io credo che lo sia molto penso che all'avere introdotto il reddito di cittadinanza non aiuti non aiuti questa riconversione necessaria che noi dobbiamo fare del mondo scuola formazione rispetto alle necessità lavorative c'è ci deve essere un ritorno alle materie tecniche ci deve essere un ritorno alla manualità ci deve essere un ritorno alla formazione professionale ecco tutto questo mi sembra che non venga agevolato laddove si semina una mentalità di assistenzialismo il reddito di cittadinanza ha fallito clamorosamente per quanto attiene la creazione di posti di lavoro l'AMPAL i navigator questa figura mitologica che dovevano trovare lavoro ecco abbiamo parlato prima dell'attuazione del PNRR nell'attuazione del PNRR siamo stati costretti a litigare fino a mezzanotte dell'ultima ora possibile perché il 31 dicembre scadeva il contratto a tempo determinato di questi navigator che poverini mica è colpa loro se qualcuno gli ha promesso un futuro luminoso hanno investito su di sé hanno preso un contratto a tempo determinato scadeva non era stato preparato nulla perché non poteva funzionare nulla di questo piano bislacco e quindi le regioni non avevano ancora questi centri per l'impiego che dovevano eventualmente assumere i navigator ma per farla breve tutta sta vicenda del reddito di cittadinanza ci ha impoverito rispetto alla capacità di ricollocare le persone e ci ha pure costretto a intervenire per dare una proroga di qualche mese ai navigator che sono a questo punto gli unici assunti dai navigator stessi guardi un pasticcio un pasticcio che ha delle firme molto precise questa roba qua l'hanno fatta la lega ai 5 stelle quando governavano finanziario 110 altri bonus velocemente che cosa è stato riproposto? vabbè sul 110 le proroghe credo che oramai le conoscano tutte compreso le proroghe che possono essere interessanti per noi per delle casi unifamiliari mi riferisco a tutto quel parco abitazioni che noi abbiamo sparso nelle montagne per noi sarebbe una grandissima opportunità per andare a ristrutturare in senso energetico un patrimonio che spesso per le famiglie è totalmente improduttivo e chiaramente questo diventa produttivo nel momento in cui entriamo davvero in una dinamica di turismo diffuso però mi rendo conto che tra le parole e i fatti c'è ancora molto lavoro da fare sul territorio spero che l'arrivo delle olimpiadi incentivi questo ragionamento la provincia di Sondrio secondo me ha conosciuto un forte declino sono quelle cose che ciclicamente ci stanno io non voglio individuare colpevoli non penso neanche che sia dovuto al fatto che durante questo declino c'è stata sempre la Lega non sono così bravi dal determinare il declino di una valle penso che derivi da questioni economico sociali che nessuno poteva fermare adesso abbiamo una grande possibilità di ricostruirci anche dopo la vicenda faticosa delle due banche che sta vedendo il suo epilogo di ripensarci di ricostruirci le olimpiadi devono diventare un'occasione che va ben oltre l'olimpiade stessa devono diventare quel cemento che ci fa tirar fuori l'orgoglio e ripensare il nostro modello di sviluppo socio-economico ci abbiamo provato tante volte mi viene in mente lo statuto di Valle di Quadrio Curzio in tanti ci hanno provati dobbiamo solo dire bravi a tutti tutti della Lega del centro-sinistra del centro-destra ci hanno provato abbiamo conosciuto una fase di declino adesso è il momento di ripartire in provincia di Sondrio e queste misure allora bisogna saperle leggere bisogna crederci io ricevo e mi fa sempre molto piacere molti valtellinesi che mi dicono guarda io ho questo progetto vorrei rilanciare quella struttura che oggi è chiusa vedo che c'è un risveglio di idee di volontà di investimento manca ancora quel collante che una volta garantivano le istituzioni le rappresentanze ma non perdiamoci d'animo vedo che c'è voglia di tornare ad essere protagonisti nel territorio 150 anni di storia è finita l'epoca anche della Banca Popolare di Sondrio che lei conosce bene e da società cooperativa oggi ci ritroviamo una società per azioni che cosa pensa di questa trasformazione anche se lo so già perché la riforma l'ha fatta il governo Renzi per cui lei c'era ricordo sempre a tutti il credito valtellinese c'è ancora proprio perché è diventato S.P.A. se no non avrebbe raccolto i capitali necessari per sopravvivere quindi non facciamo confusione la riforma delle popolari è stato un atto necessario benedetto dal mio punto di vista che ha concorso a salvare il sistema bancario italiano in un momento in cui quel sistema bancario si era rivelato molto più fragile di quanto credesse di essere ricordo a tutti Monte dei Paschi le Quattro Banche le Venete cioè situazione che rischiava di buttare a terra tutte le banche tutte le banche che fossero popolari o meno al netto di questo non si ferma il vento con le mani qualcuno diceva oggi la popolare di Sondrio è diventata S.P.A. ha avuto 5 anni in più rispetto agli altri per pensarci per capire come posizionarsi sul mercato ultimamente è venuta fuori anche questa bella idea di trasformarla in società per azioni benefit ecco è così che si risponde agli accadimenti e si dà senso alle parole territorio relazioni che altrimenti sono degli alibi altrimenti sono degli alibi perché tutta questa grande partecipazione dei soci io non l'ho vista e non la vedo nell'attività benemerita ad esempio che sta svolgendo un comitato per cercare di raccogliere i soci questo mi fa pensare che probabilmente questo legame con il corpo sociale e il territorio si è perso da molto tempo che non c'entra nulla alla riforma e ancora e qui mi ricollego a quello che dicevo prima non è colpa di nessuno certi fenomeni di trasformazione della società sono più grandi delle responsabilità dei singoli politici o dei singoli amministratori di banca che anzi io credo che le nostre due banche hanno sempre costituito un esempio di sana amministrazione almeno da questo punto di vista oggi io sarei stato ad esempio per la fusione delle due banche nel momento in cui mi veniva avanti questo scenario non ho mai nascosto nemmeno alle due dirigenze se non avrebbe comunque impedito i grandi colossi di entrare dentro e di avere la maggioranza quello non mi sembra che sia questo il problema delle nostre banche in questo momento francamente cioè non non mi cambia il rapporto col territorio a seconda di chi comanda non è questo è il problema del credito ad esempio era quello di rimanere in vita e viva Dio che c'è rimasto in vita no quindi mi sembra che sono altri i problemi se noi dobbiamo creare un rapporto col territorio ad esempio lo strumento della società benefit è uno strumento perfetto per farlo se è questo se noi pensiamo che possiamo stare sul mercato in virtù del fatto che ci leghiamo al territorio che diventiamo una banca che ha delle strategie particolari per un territorio oggi la legge ci consente di farlo chiaramente la scelta delicata è capire se questo mi fa stare bene sul mercato oppure no la scelta delicata oggi dovrò vedermela con i futuri azionisti ieri potevo vedermela col corpo sociale della cooperativa se avessi voluto ma sono tutte scelte che in autonomia un'azienda deve prendere legittimamente prende io come politico del territorio prima ho richiesto che si facesse la fusione legittimamente c'erano due posizioni diverse nelle due banche oggi quello che chiedo è che si faccia la SPA Benefit hanno avuto loro quest'idea è una bellissima idea ci può star dentro un grande valore per il territorio ma poi non è solo questo la banca dovrà decidere a questo punto anche come posizionarsi nel grande tavolo delle alleanze e delle acquisizioni è una responsabilità dei consigli di amministrazione io qui non mi permetto di entrare vedremo quello che si deciderà sicuramente c'è del personale da tutelare ci sono delle professionalità da mantenere e anche nelle operazioni di acquisizione si deve negoziare perché questo avvenga però ripeto dobbiamo leggere le parabole questa parabola sul sistema bancario era in atto da molto tempo ognuno rimarrà della propria idea sulle riforme delle popolari non è questo il punto bisogna ritirare fuori la voglia di investire in questo territorio da parte degli imprenditori da parte dei giovani che molto spesso se ne vanno e non tornano quello è il problema non è tanto che se ne vadano ma che non tornano bisogna mettere in piedi luoghi che facciano che portino le idee laddove c'è la finanza questo si si parla tanto di questo village che deve fare il credito valtelinese ecco servisse a questo sarebbe un'operazione benemerita di cui sentiamo molto la mancanza siamo uno dei pochi territori che non ha incubatori poi probabilmente bisogna lavorare ancora a monte cioè prima di far decollare una start up bisogna mettere i giovani o anche i meno giovani nelle condizioni di crederci ci vuole della formazione ma quante belle cose possiamo fare una cosa è certa forti come i valtellinesi ce ne sono pochi l'Italia è un paese meraviglioso ma io nonostante la fase così un po' discendente che abbiamo conosciuto fin qua il carattere e la tenacia dei valtellinesi lo distingo in qualsiasi parte d'Italia mi trovi e lo distinguono anche gli altri è un valore che abbiamo non ci siamo mai pianti addosso come popolazione non mi sembra proprio questo il momento onorevole dove è stato in questi mesi è stato un po' latitante era impegnato nella fondazione di Radio Leopolda la battuta gliela passo no purtroppo come tanti miei colleghi quelli che lavorano intendo siamo stati chini sui dossier alla Camera e al Senato e questo credo che sia semplicemente il nostro dovere quanto all'idea di Radio Leopolda è un'idea che mi piace lo dicevamo anche all'inizio entriamo un po' più nel nel dettaglio le democrazie occidentali soffrono qual è una una medicina la medicina secondo me è la corretta informazione e al contrario penso che invece in Italia l'informazione sia molto malata voglio dire i politici devono essere capaci di subire gli attacchi anche quelli delle reti televisive che sono possedute dagli avversari politici in che senso possedute possedute la proprietà non dal punto di vista demoniaco anche se alcune trasmissioni potrebbero far pensare che ci sia quanto meno che siano tarantolati vabbè è un fatto la 7 è di Cairo come alcuni giornali che sta per una parte politica e ci sono quelle di Berlusconi e c'è la rai lottizzata il problema è che sono i cittadini le vittime non noi noi al più quello che può succederci è che andiamo a casa con la nostra medaglia sul petto e raccontiamo le cose belle che abbiamo fatto sono i cittadini che vengono privati della loro capacità di scegliere nel momento in cui non hanno una corretta informazione davanti lo diceva me lo diceva l'altro giorno un cittadino che è anche un esperto di comunicazione dice oramai è diventato impossibile capire come stanno le cose questo se ci pensa questo è un problema per la democrazia la democrazia è quel principio per cui è il popolo che decide e sì ma se io il popolo faccio vedere un altro film è chiaro che lo sto privando proprio di questo suo strumento quindi il problema è un problema per le democrazie torno allora a Radio Leopolda faremo anche questo facciamo pure gli anchorman della radio tutto quello che serve che va tentato per me lo dobbiamo fare è un impegno in più di notte io mi occuperò di un podcast sulla sostenibilità faccio questo da sempre e quindi fare anche la fatica di provare a raccontarlo meglio attraverso una radio ben venga ecco facciamolo fino in fondo questo nostro lavoro di rappresentanti degli interessi dei cittadini e poi come sempre i cittadini decidono decideranno bene decideranno male ma l'importante è che la loro decisione è la decisione che la democrazia deve in qualche modo santificare questo è l'unica cosa che non va messa in discussione quindi mi sembra che questa legislatura ha visto l'impegno da parte di molti di prendere una decisione elettorale nel 2018 che è stata una decisione abbastanza criticabile difficile quella che ha dato il 35% ai 5 stelle io l'ho sempre detto non ho difficoltà a dirlo oggi secondo me quello è stato un errore un grave errore dopodiché come mai si va in una direzione uno se lo deve domandare come mai però i cittadini hanno votato il 35% sarà poi colpa di qualcuno che non ha saputo dare un'offerta migliore per carità tutto vero tutto legittimo però in una legislatura francamente difficile c'è stato qualcuno che ci ha messo la faccia e ha provato a renderla importante per il paese si è chiuso il 2021 solo con le medaglie oppure insomma solo meriti o anche qualche errore sono quelle che hanno preso i nostri atleti dopodiché ci sono tutti i meme e gli scherzi rispetto al fatto a hanno vinto tutti grazie Italia Viva va bene bisogna stare allo scherzo hanno vinto tutti perché l'Italia quando ha uno scatto d'orgoglio riesce ad averlo in tutti i suoi cittadini questo è il nostro tratto siamo un pochino indisciplinati nell'ordinaria età molto a volte egoisti a volte divisi campanilisti eccetera ma l'Italia si caratterizza perché quando come paese come squadra vediamo la porta allora lì facciamo gol per me il 2021 è stata questa cosa qui e glielo dico a costo di suscitare un nuovo meme io sono convinto che il modo in cui abbiamo risposto alle difficoltà anche nelle istituzioni abbia dato coraggio a tutti gli italiani quindi così come quando le istituzioni fanno male il proprio lavoro gli italiani si deprimono si arrabbiano quando lo fanno bene si incoraggiano non c'è niente di strano e credo che sia anche una cosa bella del nostro popolo bene onorevole buon lavoro grazie e buon anno a tutti noi ne abbiamo bisogno sarà un anno come sempre carico di incognite ma noi abbiamo la direzione che abbiamo tracciato su quella perseveriamo un saluto a tutti grazie anche a voi Grandangolo vi dà appuntamento come sempre a venerdì prossimo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti